CGL Cisle e Uin l'hanno inviato una nota al commissario Stordinario Libero Consorso, ai sindaci dei comuni Biala Deputazione Regionale, vente per oggetti servizi scolastici rivolte agli alunni con disabilità sensoriali che ad oggi sono stati curati dall'ente di Biala del Fante. In questi giorni, spiegano i sindacati, abbiamo avuto modo di registrare l'attività amministrativa di cessazione dell'erogazione dei servizi da parte del Libero Consorso, oltre al trasferimento delle funzioni agli enti comunali. Ecco perché, come organizzazioni sindacali, chiediamo un incontro urgente alla deputazione regionale. È indispensabile, infatti, definire in maniera univoca il passaggio di competenze dal Libero Consorso, anche perché l'offerta dei servizi sta assumendo una sostanziale discontinuità in termini di quantità e qualità, allegando forti preoccupazioni alla tenuta dei livelli occupazionali. È necessario quindi, rimarcono i sindacati, che anche il rappresentante e gli enti comunali della politica possono prendere atto di quanto sta accadendo e concertare, assieme alle organizzazioni sindacali, quali percorsi migliori da compiere per individuare le soluzioni tese a scongiurare quella che si prospetta con una problematica niente affatto semplice a definire e che colpisce, oltre alle difficoltà per i lavoratori, una fascia estremamente sensibile della popolazione.